Signore e signori buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria da me e da un nuovo video in cui torniamo a parlare di orrori cingolati, ma questa volta non di orrori cingolati tedeschi, non di orrori cingolati americani, giapponesi o sovietici, ma torniamo dai nostri cari e amati britannici, dai nostri cari bevitori di tè delle cinque che durante la seconda guerra mondiale sono stati a dir poco specializzati nel produrre boiate. Ma perché i britannici si trovarono così in difficoltà nel mettere in servizio carri decenti? C'è un motivo e quel motivo oggettivamente si chiama Dunkirk. Durante la campagna di Francia del 1940 il British Expedition, e sì buonasera che non riuscirò mai a pronunciarlo esattamente, il British Expeditionary Force, il corpo di spedizione britannico, la forza di spedizione britannica in Francia, venne circondata e dovette scappare, dovettero ritirarsi in Inghilterra lasciando però a Dunkirk praticamente tutto il materiale pesante. Camion, cannoni, carri armati, di equipaggiamento di ogni tipo, riuscirono a salvare soltanto gli uomini. L'esercito metropolitano inglese aveva completamente o quasi perso le sue componenti meccanizzate e corazzate. Tutto era rimasto in Francia. Camion, carri armati e quant'altro. E occorreva non solo riarmarlo da capo in pratica, ma occorreva anche mantenere attivo, mantenere attivi i reparti che combattevano, cioè come dire, che erano stanziati in Africa, nelle colonie, nei Dominions, in Estremo Oriente, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi che cosa fare? Premere l'acceleratore sulla produzione dei vecchi tipi per sostituire quelli andati persi in Francia a Dunkirk e cercare contemporaneamente di sviluppare nuovi mezzi, magari elaborando quelli vecchi. Fu un disastro perché si produssero cose, cose come il mitologico Covenanter, ve lo ricordate? Il problematico Covenanter. Quindi praticamente si dovette arrangiarsi, ci si dovette arrangiare con quello che c'era e contemporaneamente tentare, andare avanti per tentativi, cercando di produrre qualche cosa di meglio, superando i difetti, migliorando i tipi, sorpassando, superando la problematica complicata e ora noi sappiamo essere errata dottrina del suddividere i carri armati in carri incrociatori, ovvero sia leggeri e veloci da usare come sfondamento e carri per fanteria lenti e pesanti per accompagnare la fanteria che avrebbe dovuto seguire l'attacco dei carri incrociatori. Quando invece bastava un unico tipo di carri armati in pratica che poteva funzionare da supporto per la fanteria ma poteva anche funzionare da mezzo veloce di sfondamento. Alla fine ci arrivarono anche gli inglesi e produssero qualche cosa di interessante ma fecero veramente anche dei disastri. Uno su tutti il Covenanter di cui qualche anno fa ho fatto un video. Un altro terrificante accrocco e lo conoscete anche voi fin troppo bene probabilmente il peggior carro armato di tutti i tempi il Vickers Valiant un derivato del descritto Valentine che è stato con il cui unico prototipo è stato conservato per farlo studiare agli studenti di ingegneria e per spiegare come non si progetta un carro armato il Valiant che insomma andate a ripescarvi il video e buonasera ma 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 non paghi di avere combinato certi disastri gli inglesi continuarono ripeto a loro parziale giustificazione. C'era la necessità di continuare a produrre quello che c'era a disposizione Valentine, Matilda, i carry cruiser di primo tipo i Churchill che oggettivamente erano mezzi molto affidabili erano forse come dire il il la miglior dimostrazione di come doveva essere fatto secondo gli inglesi un carro per la fanteria anche se rimaneva decisamente sotto armato ma insomma errori 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 sbagliandosi impara e uno degli ultimi sbagli fatti dagli inglesi fu questo mezzo qui ha le fonti come sempre uno atlante mondiale dei mezzi corazzati Stati Uniti Gran Bretagna e Commonwealth nella seconda guerra mondiale di Chamberlain e Ellis primo volume e poi British Battle Tanks di David Fletcher autentica bibbia in materia allora dicevo l'ultimo se vogliamo sbaglio grave fatto dagli inglesi infatto di carri armati fu questo il carro incrociatore mark 7 mark 7 cavalier oa 24 eccolo qua eccolo qui il cavalier l'ultimo di una lunga serie di errori o il primo passo verso finalmente la produzione di un carro riuscito il cavalier praticamente nasce come carro incrociatore nasce dalle esperienze con i prototipi del coven hunter e del crusader altro carro che definire fallimentare è poco ma non del tutto per colpa sua ripescatevi il video che gli ho dedicato le esperienze con i prototipi del coven hunter e del crusader alla fine del 1940 oltre alle lezioni derivate dalle battaglie di corazzate in Francia e in Libia indussero il ministero degli approvvigionamenti alla fine del 1940 a richiedere un carro incrociatore pesante che non presentasse i difetti congeniti dei modelli esistenti carro incrociatore pesante il primo passo britannico verso il moderno congetto di carro multiruolo quello che poi sarebbe diventato se vogliamo il primo mbt in assoluto ovvero sia il centurion andatevi a vedere il video anche di quello allora questo nuovo mezzo avrebbe dovuto avere una corazza più spessa ovvero sia 65 mm sulla fronte dello scafo e 75 mm sulla torretta anello di rotazione della torretta di diametro maggiore ovvero sia un metro e ottanta cannone più pesante l'ottimo 6 libri da 57 mm motore più potente un peso limite di 24 tonnellate e una velocità non inferiore a 38 km orari e soprattutto una efficienza meccanica superiore anzi la specifica diceva richiediamo una specifica richiediamo un'efficienza meccanica molto superiore a quella dei tipi precedenti sì 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 parliamone e questi erano molti dei miglioramenti richiesti anche perché oggettivamente ripeto crusader e coven hunter tutto erano tranne che buoni carri ecco eh vabbè 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 in considerazioni le relative proposte la Vauxhall aveva offerto una versione rimpicciolita del carro per fanteria Churchill il il ciabattone designata a 23 versione che non fu accettata mentre tenetevi forte la Nuffield Mechanization and Arrow presentò un progetto basato su quello del Crusader che stava già producendo ahia alla Mechanization and Arrow furono richiesti sei prototipi da completarsi per il successivo autunno per l'autunno 1941 con la designazione di A24 il veicolo era meccanicamente simile al Crusader tenetevi forte e doveva conservare il motore Liberty e il cambio epicicloidale Wilson il mefitico il maledetto l'abominevole Nuffield Liberty L12 il Liberty L12 probabilmente il peggior propulsore per carri armati di tutta la storia della seconda guerra mondiale l'abominio lo schifo la munnez vabbè 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 e già il carro partiva decisamente male nel frattempo la Leyland Motors uno dei gruppi industriali cointeressati nella produzione del Covenanter e del Crusader suggerirono un progetto che utilizzasse uno scafo simile a quello del Crusader stesso ma che fosse potenziato dal motore aeronautico Rolls Royce Merlin e che montasse il nuovo cambio Merrick Brown già impiegato nel Churchill e che si era rivelato oggettivamente più che buono il Churchill era un carro pieno di difetti anche quello ma 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 aveva delle buone soluzioni meccaniche e soprattutto era una garanzia per gli equipaggi di portarsi a casa la pellaccia ma vabbè andiamo avanti comunque in questo periodo tutta la produzione dei Merlin occorreva all'aeronautica ma il progetto A24 fu ugualmente combinato con il progetto della Leyland che allora era designato A27 e una ordinazione per 500 A24 fu passata direttamente dal tavolo da disegno nel giugno 1941 il carro fu denominato inizialmente Cromwell 1 ma poiché doveva considerarsi un mezzo di transizione in attesa del vero Cromwell ovvero sia lo A27 potenziato dal Merlin o per meglio dire dal Meteor la versione la versione tra virgolette depotenziata la versione del Merlin adattata per i carri armati ok il carro fu ripeto denominato Cromwell 1 ma poiché scusate allora ecco allora si decise di riservare anche il nome di Cromwell per lo A27 scusate mi sono impappinato a leggere abbiate pazienza lo A24 eccolo qua eccolo qua nuovamente lo A24 venne quindi denominato Cavalier il Cavalier apparve come prototipo nel gennaio 1942 ma qui cominciano le dolenti note dovendo montare ancora il mefitico Nuffield Liberty L12 l'OA24 non offriva alcun progresso meccanico rispetto al Crusader che già era un carro fallimentare infatti a causa dell'aumento di peso perché ripeto il Cavalier pesava 26 tonnellate in ordine di combattimento il Cavalier aveva prestazioni inferiori la già breve vita del motore risultava molto accorciata perché ricordatevi quello che vi ho sempre detto in condizioni tra virgolette estreme il Nuffield Liberty non durava più di 30 ore se un Nuffield Liberty durava più di 30 ore era un miracolo e quindi l'aumento di peso 26 tonnellate il Cavalier A24 il Crusader Mark 7 il sì buonasera il carro incrociatore il Cruiser Tank Mark 7 ok pesava 26 tonnellate quindi molto di più rispetto al vecchio Crusader e qui vengono fuori i problemi di quell'arcaico di quel glorioso un tempo glorioso propulsore aeronautico adattato ai carri armati i soliti problemi gli arcinoti problemi disastrose diciamo così perdite d'olio molto copiose una fragilità meccanica preoccupante surriscaldamenti tanti surriscaldamenti e soprattutto disastrose rotture garantite sicure al 100% dopo le 30 ore di manutenzione i veicoli prodotti i Cavalier prodotti furono impiegati solo per addestramento solo nei reparti di addestramento per i cosiddetti carri cannone ovverosia le unità di addestramento utilizzarono i Cavalier nel 1943 furono trasformati in carri OP observation post posto di osservazione per artiglieria e impiegati di conseguenza dai reggimenti di artiglieria per divisioni corazzate durante la campagna in Europa nord-occidentale del 44-45 alcuni furono convertiti in carri soccorso era quasi identico al Cromwell e al Centaur la sospensione era migliorata con molle a spirale con le molle con i molloni delle sospensioni tipo Cristi più robuste diciamo più potenti per compensare il maggior peso rispetto al Crusader e il motore Liberty potenziato potenziato si fa per dire potenziato insomma parlare di potenza aumentando il regime di rotazione cioè praticamente venne fatto il Liberty venne fatto girare più in fretta con il risultato di ottenere una affidabilità quanto meno scarsa molto scarsa era la versione questa del Nuffield L12 era la versione da 480 cavalli quella del Crusader ne aveva poco più di 300 ma anche in questo caso il motore uccise praticamente questo alt caldo dire che lo uccise forse è sbagliato perché oggettivamente il Cavalier come ben vedete ecco il Cavalier esteticamente è pressoché uguale al suo successore Cromwell e diciamo che servì come banco prova servì come diciamo filler gap come riempitivo prima dell'arrivo del Cromwell ma oggettivamente a parte ripeto i carri utilizzati come posti d'osservazione avanzati per l'artiglieria per l'artiglieria campale ovvero sia questi carri armati venivano mandati ho detto dove dobbiamo tirare là ho detto cosa dicono i posti d'osservazione e i posti di osservazione mobili cioè i Cavalier appositamente modificati indicavano dove l'artiglieria doveva tirare e cosa stava colpendo una funzione molto importante ma diciamo per la quale non era sicuramente necessario un prezioso Sherman anche un malandato Cavalier col suo stramaledetto motore di me scusate non voglio fare emozionare youtube ma oggettivamente il Liberty quello è un motore ok 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 allora cosa dire un mezzo di transizione si sperava che potesse migliorare e in effetti il Cavalier migliorò in seguito ma migliorò quando quando gli studi fatti per il Cavalier vennero passati ai successivi Centaur ovvero sia il carro incrociatore Mark 8 A27L e al carro incrociatore Mark 8 Cromwell A27M quella dei Cromwell è una famiglia che nasce da questo fallimentare e ripeto e sottolineo fallimentare esperimento qua un mezzo meccanicamente fragile penalizzato da un motore che definire inaffidabile e pessimo è realmente fargli un complimento cioè ripeto per le prime 30 ore di funzionamento 25 massimo ma ripeto sottolineo massimo 30 ore di funzionamento il Nuffet Liberty erogava una potenza non disprezzabile le versioni montate sui Carri Cruiser e Crusader erogavano circa 350 cavalli questa erogava una sessantina di cavalli in più perché era stato aumentato il regime di rotazione col risultato però di renderlo ancora più fragile e ripeto entro le 30 ore di funzionamento era garantita la rottura erano garantite come testimoniato da tutte da tutte le unità operative da tutti i rapporti che mi sono capitati sotto mano il motore Nuffet Liberty dopo 30 ore se non esplodeva eri fortunato se sbiellava eri fortunato se non prendeva fuoco eri fortunatissimo insomma un mezzo interessante vero ma sicuramente un mezzo non riuscito soprattutto per colpa del pessimo motore il armato con un cannone che per l'epoca era più che buono e più che sufficiente per affrontare qualsiasi cosa che stesse tra l'autoblinda e il Panzer IV il 57 mm non giriamoci attorno il 57 mm il 6 libre britannico era un eccellente pezzo anticarro e fino al 1943 fu uno dei migliori pezzi anticarro fu uno dei migliori cannoni per carri armati del conflitto poi come ben sapete arrivarono i Panzergattoni tedeschi e si dovette pensare a qualche cosa di più pesante a qualcosa di più potente ma questo è un altro discorso che affronteremo in seguito insomma carro incrociatore Mark 7 Cavalier o a 24 uno degli ultimi sbagli dell'industria britannica che finalmente stava imparando la lezione finalmente stava imparando la dura lezione dei campi di battaglia stava imparando lentamente a mettere in servizio cose migliori rispetto ai disastri combinati in precedenza quindi cari signori adesso come sempre tocca a voi qua sotto qua sotto qua sotto commentate fatemi sapere che cosa ne pensate e come sempre se non siete iscritti iscrivetevi a questo accidente di canale non costa nulla non costa nulla è gratis cliccate sulla campanellina degli avvisi e ripeto fatemi sapere che cosa ne pensate qua sotto commentate numerosi e vi mando un caloroso saluto vi ringrazio di tutto cuore e come sempre il più grande il più grosso e il più forte dei miei ciao